ciao amici bentrovati questo video è dedicato in particolar modo all'equinozio di primavera l'equinozio che è l'ingresso del sole nel segno della riete quindi è l'inizio degli inizi non è soltanto l'inizio della stagione della primavera ma è anche l'inizio del nuovo anno astrologico e sarà domattina sabato 20 marzo alle 10 e 37 è un equinozio davvero interessante perché perché il governatore il reggente dell'equinozio che è il governatore del segno della riete e marte l'anno scorso marte in occasione dell'equinozio si trovava in capricorno molto vicino a giove a saturno e a plutone e infatti abbiamo avuto un anno molto pesante molto denso quest'anno invece marte si trova nel segno dei gemelli che è tutta un'altra cosa e a marte dei gemelli tra l'altro ho dedicato un video che trovate qui sul mio canale youtube bene il segno dei gemelli appunto è un segno estremamente differente dal segno del capricorno segno leggero è un segno che ama comunicazione ama il movimento quindi direi che possiamo aspettarci un anno un po diverso dal precedente qualcosa si sta muovendo ci sono più gradi di libertà sia a livello individuale che collettivo sto parlando ovviamente eh di tutta la stagione eh quindi mh questa configurazione ci fa ben sperare per il proseguimento della stagione primaverile oltretutto arriviamo da una lunazione molto interessante che è stata la luna nuova del 13 marzo luna nuova nel segno dei pesci con sole luna venere e nettuno nei pesci quindi un'atmosfera magica che secondo me ha risvegliato molto i nostri sogni i nostri desideri però certo l'energia dei pesci da sola non riesce a concretizzare non porta in essere nella realtà i desideri e i sogni però adesso piano piano l'energia cambia e eh comincia ad arrivare un po di fuoco nell'aria perché per tutto l'anno praticamente abbiamo pochissimo fuoco ce l'abbiamo solo in alcune eh fasi come appunto quella del seno della riete poi ovviamente ce l'avremo quando solo entrerà il leone poi sagittario però sono piccoli periodi non ci sono pianeti lenti eh in segni di fuoco per cui adesso invece che c'è un po' di fuoco è chiaro che eh si può pensare di concretizzare in più in più il sole congiunto a venere fa se stile con Plutone in Capricorno quindi insomma c'è la possibilità di concretizzare questi sogni e questi desideri di cominciare a portare nella realtà però attenzione Marte Marte come ho detto si trova nel segno eh dei gemelli fa un bellissimo trigono con Saturno in acquario che ci ricorda che questa struttura questa forma che possiamo finalmente dare un po' ai nostri desideri ai nostri sogni deve avere un volto diverso cioè deve avere delle caratteristiche molto differenti dalla realtà che conosciamo e che ci lasciamo alle spalle questo è un po' il light motivo di tutto il periodo no? Inoltre inoltre Marte in gemelli fa un altro aspetto di cui ho parlato appunto anche nell'altro video ma che ci tengo a ricordare che è se stile a Chirone in Ariete anche questo è un aspetto molto importante perché sostanzialmente cosa dice? Dice a ciascuno di noi prenditi la responsabilità delle tue ferite prenditi la responsabilità della tua vulnerabilità e smettila di fare la vittima ognuno la interpreterà come vuole e come può di certo a livello collettivo è un monito importante e dice allora la smettete di voler far ritornare le cose come erano prima di rimpiangere il passato non ha alcun senso perché perché la sofferenza arriva sempre per insegnarci qualcosa la sofferenza deve essere trasformata deve essere usata per crescere per evolvere per imparare se noi non impariamo niente se ci ostiniamo a fare le vittime e a voler tornare indietro vanifichiamo la sofferenza tutto quello che sta accadendo da un anno a questa parte ha un senso non serve cercare colpe non serve fare le vittime impotenti serve trasformare quella sofferenza e agire in una direzione nuova diversa inconsueta proprio per cambiare le cose quindi questo è un messaggio molto forte che viene ribadito proprio in occasione dell'equinozio anzi guardiamolo insieme questo tema eccolo qui quindi qua abbiamo no non è questo non è questo eccolo qua sì esatto è questo allora qua abbiamo marte in gemelli che fa quadratura con mercurio nei pesci poi abbiamo detto che marte fa trigono con saturno più avanti ad aprile farà anche trigono con giove quello sarà un altro bellissimo aspetto ma ne parleremo più avanti che proprio porterà un'espansione della visione sarà un buon momento per aprirsi a nuove conoscenze a nuovi contatti e quindi proprio allargare la prospettiva e poi marte fa se stile con chirone dicevo in ariete qua non è segnato però questo aspetto allora dicevo poi marte in gemelli che fa una quadratura con mercurio nei pesci questo è un altro è un altro aspetto interessante ma vorreste fermarmi un attimo su questo mercurio in pesci mercurio è entrato nel seno dei pesci il 15 di marzo e ci resterà fino al 6 di aprile 5 di aprile fino al 5 di aprile allora mercurio nei pesci ci porta un po nel paese delle meraviglie appanna un po la mente si ci rende tutti un pochino più sognanti un pochino più distaccati dalla realtà però mercurio in pesci anche una grande capacità che è quella di metterci in contatto con delle dimensioni superiori chi ha mercurio nei pesci o mercurio in dodicesima casa o contatti mercurio nettuno nella carta natale è un po una un medium no è capace di interpretare il linguaggio dei simboli come per esempio l'astrologia solo mercurio può farlo però lo può fare se attiva l'intuito mercurio sappiamo che associato alla mente inferiore no la mente che per lo più è razionale ma quando si trova nel segno dei pesci o appunto in dodicesima casa o connesso a nettuno allora ecco che attiva l'emisfero destro e quindi ci permette di connetterci con l'archivio cosmico e cos'è questo archivio cosmico urano con cui mercurio in pesci fa un sestile mercurio fa sestile con urano in toro anche questo è un aspetto molto bello perché perché mercurio è la mente inferiore urano è la mente superiore connessi da un sestile ci aiutano proprio a scaricare le informazioni da questo archivio cosmico urano è proprio questo è la cascia e lettere è questo gigantesco archivio virtuale dove sono conservate tutte le idee allora quando noi riusciamo a connetterci con il nostro sé superiore è come se potessimo accedere a questo archivio cosmico e scaricare le idee e portarle poi sul piano della realtà con urano in toro e questo è possibile no c'è molta più concretezza quando poi il 30 di marzo mi sembro preso un po di appunti perché ci sono un sacco di cose interessanti da dire e quando il 30 di marzo mercurio si congiungerà con nettuno e avremo i due maghi dello zodiaco in funzione e quindi potremo davvero accedere a qualche informazione che arriva da un'altra dimensione potremmo essere ispirati forse non sarà ancora il momento di agire proprio perché mercurio in pesci così ci ci fa sentire un pochino confusi ma soprattutto perché c'è quella quadratura tra mercurio e marte quindi il pensiero e l'azione non saranno ancora come dire sincronizzate mentre è importante prima centrarsi ed essere sicuri di agire coerentemente con il pensiero con l'idea con l'intenzione che arriva da un'ispirazione dobbiamo aspettare semmai appunto 5 di aprile quando poi mercurio passi in ariete allora è più facile che lì l'azione sia coerente con il pensiero ora equinozio equinozio significa equilibrio tra la luce e l'oscurità quindi equilibrio tra il giorno e la notte tra il maschile e il femminile e ogni equinozio si verifica sull'asse riete bilancia che è l'asse delle relazioni per cui l'equinozio indica l'energia che in potenza è espressa dalla configurazione dell'equinozio indica come noi possiamo muoverci per cercare quest'armonia interiore nelle relazioni in genere che siano la relazione con un partner la relazione con un amico la relazione con un collega con il capo con un genitore con un figlio ma anche la relazione con noi stessi e la relazione tra il maschile e il femminile dentro di noi la relazione con il tempo andiamo a vedere allora venere venere che è l'archetipo connesso con la relazione per eccellenza venere si trova nei pesci e fa un aspetto di se stile con plutone cosa vuol dire questo vuol dire che c'è la possibilità di connettere i sentimenti i desideri il nostro sistema di valori con la realtà materiale quindi può essere un momento di verifica per molte relazioni quanto sono autentico quanto sono autentica dentro le mie relazioni sto tenendo in piedi veramente delle relazioni a cui tengo che per me sono importanti che per me hanno valore che desidero davvero tenere in piedi può esserci una valutazione di questo tipo altro altro aspetto interessante riguarda degli archetipi nuovi di cui mi piace parlarvi a questo proposito vi invito domenica 28 marzo a seguire la conferenza organizzata dal cida il centro italiano discipline astrologiche in cui parlerò appunto di alcuni di questi nuovi archetipi per l'astrologia della nuova era ci sono dei nuovi abitanti nel sistema solare che sono stati scoperti tra la fine del secolo scorso l'inizio di questo secolo e che sono connessi proprio a frequenze più elevate a dimensioni più alte che si esprimono in modo molto più sottile e tra questi c'è salassia quauaur makimaki haomea e ciariclo questi salassia quauaur makimaki haomea sono oggetti transnettuniani della fascia di kuiper ciariclo è un centauro nel mito è la moglie di chirone parlerò di questi cinque adesso voglio mostrarvi come alcuni di loro abbiano un ruolo davvero interessante allora sole e chirone si trovano in ariete il sole a zero gradi dell'ariete chirone a otto gradi salassia che nel mito è la moglie di nettuno e che rappresenta lo scintillio della luce del sole o della luna sull'acqua si trova a cinque gradi dell'ariete quindi proprio in mezzo tra sole e chirone e fa una quadratura con quauaur che si trova invece a sei gradi del capricorno allora quauaur è collegato con le tribù indigene americane e c'è una credenza di queste tribù che secondo la quale noi possiamo creare la nostra realtà cantando e ballando quindi tenendo le frequenze molto alte stando nella gioia capite come l'interpretazione di questi di questi archetipi sia davvero diversa molto distante dall'interpretazione materialistica che siamo abituati a dare ad altri archetipi della nella nostra astrologia questi si muovono davvero su un piano più sottile difficilmente trasportabile nella realtà 3d sono proprio un segno dei tempi che cambiano il fatto che questi oggetti siano stati scoperti recentemente indica per sincronicità che questi archetipi sono entrati recentemente nell'inconscio collettivo e sono ancora adesso in fase di integrazione nell'inconscio collettivo e indica che in questa fase della dell'umanità della vita dell'umanità c'è un salto di coscienza in atto c'è proprio un salto quantico di consapevolezza allora dicevo salassia fa una quadratura con quau aure e fa un'opposizione con bachi 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 è molto importante perché si trova a sette gradi della bilancia è il dio creatore nella nella storia dell'isola di pasqua e secondo lui secondo questo dio creatore tutto sulla terra ogni cosa sulla terra ha un'energia divina e una coscienza fa una quadratura maki maki abbiamo visto con quau aure e un'opposizione a salassia quindi qui c'è una croce a t ovviamente questa croce a t dura da molto molto tempo perché questi corpi celesti hanno delle orbite molto lunghe quasi circa 300 anni più o meno però interessante che ci sia adesso questa croce a t in concomitanza con questa particolare configurazione di un equinozio così eh potente anche perché maki maki è connesso alla pandemia perché nell'isola di pasqua nella diciannovesimo secolo c'è stata una pandemia portata dagli schiavi europei in america e eh sono sopravvissute solo cento undici persone su tutta l'isola e quindi diciamo che maki maki è associato proprio alla capacità di rigenerarsi alla capacità di ricostruire tutto potrebbe essere un buon auspicio per un cambio di energia per una ripartenza visto che stiamo parlando proprio dell'inizio degli inizi per una ripartenza una ricostruzione ma eh naturalmente essendo collegato a qua o aurea salassia che comunque indicano un innalzamento delle frequenze salassia possiamo pensarla come una rappresentazione di questa luce eh che sta eh colpendo la terra di una frequenza particolarmente elevata ci sono delle misurazioni oggettive che lo dimostrano e qua ora come dicevo prima è connesso con l'alzare le vibrazioni cioè scegliere di gioire scegliere di cantare e scegliere di danzare e creare così una realtà differente allora possiamo proprio pensare che il nuovo insegnamento è questo se alziamo la nostra frequenza noi possiamo stare bene il nostro corpo sta bene se noi vibriamo una frequenza più alta questo è un concetto molto nuovo per il sistema in cui siamo cresciuti per il sistema che stiamo lasciando alle spalle che è questo paradigma patricentrico molto materialistico per cui è difficile pensare che noi scegliamo la realtà oggettiva in cui viviamo no? Quel paradigma ci mette come dicevo prima nel ruolo di vittime e ci sono i cattivi che vogliono distruggere l'umanità ci sono i cattivi che creano il virus e poi creano il vaccino che uccide e poi hanno gli interessi economici e i ricchi vogliono essere più ricchi e tutte queste narrazioni che ci lasciano nel ruolo di vittima e invece qui c'è una configurazione che ci vuole accompagnare in un nuovo modo di vedere le cose noi possiamo scegliere a quale frequenza vibrare scegliere la realtà nella quale vogliamo vivere sono proprio come dicevo delle energie più sottili che si muovono ma bisogna scegliere bisogna decidere come sempre di sintonizzarsi con quei messaggi vi ricordo tra l'altro che sullo sfondo ovviamente c'è sempre la quadratura saturno urano questa quadratura che andrà avanti ancora per molti molti mesi fino al 2022 e che cosa indica la quadratura saturno urano appunto che è il nostro livello di coscienza la mente superiore urano che determina gli eventi la situazione aggettiva ok quindi quello che stiamo vivendo è un periodo di rivoluzione delle coscienze c'è un'energia forte e l'energia della terra si sta alzando progressivamente e così deve essere per l'energia delle nostre singole coscienze che poi creano la coscienza collettiva e tutto questo va in una direzione di rottura con tutto quello che siamo stati quindi ciascuno nel suo piccolo provi a iniziare questo nuovo anno astrologico cambiando qualcosa facendo qualcosa in modo completamente diverso inatteso rispetto a come l'ha fatto finora le abitudini vanno cambiate le piccole abitudini cercare di non fare ogni giorno le stesse cose dall'orario in cui ci si alza il modo in cui si fa colazione al posto dove si parcheggia l'auto indossare un colore che non è mai stato indossato prima tante piccole cose perché poi dalle piccole cose nascono i grandi cambiamenti e ne abbiamo bisogno di un grande cambiamento per ora vi saluto tornerò presto per parlarvi del star point di venere che è l'immagine che avevo per sbaglio condiviso prima il sole che si congiunge con venere il 26 marzo a 5 gradi del seno della riete ma ne parlerò in un prossimo video e poi ci sarà la luna piena del 28 marzo molto molto interessante e vi ricordo ancora una volta la conferenza del cida su zoom del 28 di marzo troverete sicuramente sul mio profilo su quello del cida il link per connettervi quindi ci vediamo presto io vi ringrazio se vi va iscrivetevi al canale vi mando un grandissimo abbraccio buon inizio degli inizi buon equinozio un bacio a tutti grazie e a presto